Tutto esaurito ieri per lo spettacolo La Rocca di Giustina, opera scritta dalla drammaturga Arianna Gambaccini e che ha portato in scena la notte prima del celebre lodo arbitrale pronunciato nel 1500 da Giustina Rocca, prima donna ad esercitare la professione di avvocato al mondo, proprio nella città di Trani. La vita di questa donna, che ha lasciato il segno nella storia, viene raccontata in maniera intima, scandagliando i sentimenti che affollarono il suo cuore nella notte tra il 7 e l'8 aprile del 1500 e il dilemma che caratterizzò successivamente il corso degli eventi. Recarsi a Venezia, dove era stata invitata dal doge in persona come ambasciatrice anche per la città di Trani, oppure sentenziare un lodo in veste di arbitro, Giustina scelse di cambiare la storia, mettendo in moto quel meccanismo che secoli dopo portò le donne a diventare protagoniste nella bocatura. Lo spettacolo è strutturato partendo da un'immagine che è l'Achesi. L'Achesi è la parca in mezzo, è la parca che regge il filo ed è da qualcuno anche immaginata come la parca della giustizia ed è l'unica a cui venivano fatti dei sacrifici e abbiamo immaginato che questa parca si stanca di tenere il filo per l'eternità, il filo della vita degli altri e non vivere, quindi decide di andare sulla terra a vivere una vita tutta sua. A portare in scena lo spettacolo, inserito in un ricco calendario di iniziative dedicato alla prima bocatessa al mondo, Marluna Teatro, archetipo narrativo per trascinare il pubblico in quel turbine di emozioni, dubbi e incertezze sul futuro, sono le parche che accompagnano Giustina la Giusta verso il compimento del suo destino. Sulla scena l'interprete protagonista, Giustina Rocca, è Elisabetta Loia, una meravigliosa Elisabetta Loia. Io e Maria Elena siamo rispettivamente cloto, con lei che tesse, atropo, con lei che taglia il filo. Abbiamo avuto il supporto di Gianluigi Carbonara che ci regala delle luci e ci ha regalato una scena perfetta e la produzione di Marluna Teatro nella figura di Maria Elena Germinari. Grazie. 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 Grazie.